Puzzo ma come l'hai pulito? Vabbè oh, è l'altore, la fretta, la fretta, questo è quello che c'è Vittorè? Sì, l'altro giorno a prendere fornacci, il puro sangue, si, si chiama? Totò, Totò, è bell'Totò, è bell'Totò, ti hai visto? Questo è il piazzaiolo, sì, è bellino, bellino, Totò, questo è per amici di Degnano, sono contento di averci, Totò, ok, dai facciamo fare anche così, vai, fa la foto.